Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza, ecco la forza della fede che libera dalla paura e dà speranza. O Dio che tutto sai, ricordati di noi, insegnaci la via che a te ci condurrà se ti giungerai questa mia preghiera. Tu l'ascolterai e ci salverai, i tuoi figli siano noi. La luce che tu dai nel cuore resterai. Ricordarci che l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, quanta fede c'è. Se ci guiderai, tu ci salverai, gli occhi nostri sono i tuoi. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia la mano al suo amicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai è il desiderio che ognuno trovi amor intorno e dentro sé. La nostra preghiera giunga fino a te. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverai. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.